Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Avete visto la scorsa puntata con i disegnatori dei Gormiti? È stata una gormitica sorpresa! Sì, perché al Gormiti Show le sorprese non finiscono mai e oggi ne abbiamo davvero tantissime! Sì, come per esempio questo fantastico marsupio portagormiti che ho già indossato! Ma è bellissimo! Guarda un po', Lorde Titano che ti piace tanto, poi ho anche Lorde Carrion e tantissimi altri gormiti! Ma è bellissimo, ma per me non c'è? No! Ma perché non è giusto? Lo voglio anch'io! Dai, fa niente, su! No! Dai, sto scherzando Giada, guarda! Ma che bello! Ragazzi, questa qui è una super anteprima perché i marsupi saranno disponibili soltanto da settembre! Ma non finisce qui! Noi lo sappiamo bene che la scuola è finita da poco, che vi state godendo queste meritatissime vacanze estive, chi è il mare, chi è in piscina, chi è davanti! Ho un bellissimo episodio dei Gormiti, ma qui al Gormiti Show è tempo di... Back to School! Wow, Giada! Qui in studio sono arrivati tutti i prodotti per la scuola! Guarda un po' qui! Il diario! Guarda che bello! Ci sono un sacco di Gormiti! Fa vedere! È vero! È subendo! Ci sono un sacco di Gormiti su ogni pagina! Gianni, guarda un po' qui! L'astuccio! L'astuccio a tre scomparti! Fa vedere! Quante matite! Faccio di matite così per fare tutti i disegni che vuoi! Eh sì, perché lo sapete che a me piace tanto disegnare! Ma è questo? È lo zaino, ma è bellissimo! Eh sì, cara Giada, questo è uno zaino molto speciale! Perché? Guarda un po'! Qui abbiamo una card, ok? Adesso la tolgo e ti faccio vedere come funziona! Basta posizionare questa card sulla scritta Gormiti! Guarda un po'! Hai visto? Ma si illuminano i simboli! Si illuminano tutti i quattro elementi! No, ma lo voglio anch'io questo zaino! È troppo bello! Anch'io, anch'io è troppo bello, sì, è vero! Gianni, guarda un po'! Ci sono gli occhiali! Gianni, ma cosa stai facendo? Stai rovinando tutto il diario! Sei al solito pasticcione! Ma no, Giada! È nuovo! Ma non lo sto... Non lo sto pasticciando! E cosa stai facendo allora? È che volevo farti... Volevo farti una dedica! Una dedica? Ma aspetta che faccio una cosa... Ecco qui! Voglio vederla! Ecco qui! Alla mia amica Giada che è una roccia! Hai disegnato pure l'ortitano! Eh, perché in tutte queste puntate abbiamo litigato anche tanto con l'ortitano! Grazie! E adesso volevo regalartelo! Così almeno puoi segnarti intanto tutti i punteggi delle nostre sfide! Beh, sì! E poi Giada... E poi... E poi... E insomma ti ricorderai... E ti ricorderai... Ti ricorderai di tutte le volte che perdi contro di me! Ecco! Ma davvero? Ma stai scherzando? No! Bene! Vedremo adesso! Io mi ricordo che la scorsa challenge hai perso! Vedremo oggi! Io non lo ricordo! Io me lo ricordo bene! Per la challenge di oggi useremo il set bowling dei gormiti! E chi vincerà avrà una super sorpresa! Una sorpresa? Wow! A me piacciono le sorprese! Ma Giada, scusami, ma che challenge è? È giocare al bowling! Prendo la palla e lancio contro i birilli! No! Così è troppo facile! AST! Allora! Ti devi posizionare davanti ai birilli! No, non così! Dove sono io? Qui! Io ti girerò tra i tantissimi giri! Sì? Poi a un certo punto ti stoppi, ti metti così, ti abbassi e tiri la palla! Inizia tu che non ci ho capito niente! Va bene? Va bene! Io però ti girerò! Vai! Pronti? Sì! 3, 2, 1, gira! Giusto? Sì? Non troppo però! Non male così! Gira! Finché la produzione non mi stoppa io vado avanti! Oh, scherzo! Aiuto! Ok? Ok, spetta, c'è la parte giusta! Aspetta! Aspetta! Brava! Eh, no! Le fatti cadere tre! Tre! Ok, sistemali che io mi preparo! Aspetta che mi gira la testa! Guardiamo Giada! Ok, allora, ho capito, è facilissimo comunque! Prendo la palla! Aspetta! Inizia a girare, va bene? No, io giri, ti giro! Aspetta, fermi! Ok! Vai! Vado! Gira! Ok! Ancora! Gira la testa! Gira, gira! Ok! Aspetta! Basta qui giù! Ultimo! Fermati! Vai! Vasuti! No! Giorni! Eh? Sono il solito pasticcione! Eh? Beh, forse è meglio che andiamo a sistemare il danno che faccio! Vai, vai che mi riposo un attimo io! Wow, Giada! Ma è la sacca dei gormiti! Grazie, è davvero bellissima! Sì, però questo in realtà è un regalo per chi ha vinto la challenge, ovvero? Ovvero tu? Sì! Ma posso vederla almeno, dai! Ok! Wow, ma è davvero stupenda! Guarda come è fatta bene! Hai visto che bella? Ma c'è qualcosa dentro? È certo che c'è qualcosa! Vediamo! Guarda un po'! La quarta edizione del magazine in anteprima! Wow! Oh, beh, possiamo dire che troviamo la pistola d'acqua dei gormiti! E in spiaggia sai che battaglia! Vedrai, vedrai come ti batto! Poi apriamo e troviamo i fumetti inediti, storie mai viste prima! Tantissimi disegni da colorare! E poi troviamo l'intervista fatta a Emilio e Giorgio, che sono i disegnatori dei gormiti! Mi raccomando, andate a leggerla! Quindi amici, dovete andare assolutamente in edicola e prendere anche voi il magazine! Eh sì! Ora non vi resta che salutarvi e vederci la prossima parte! Giallo, un secondo, un secondo! Posso chiudere io questa puntata con una bellissima magia? Sicuro che hai imparato a farle! Mi hai insegnato tu! Va bene! Allora, dita così, giusto? Sì! Uno, due, tre! Johnny? Johnny? S'ha fatto la magia solo per lui! Ragazzi, ci vediamo nella seconda parte della puntata! No! Ma... Giada! Intanto... Questo... Lui è... È arrivato il momento, cara Giada! Quale momento? È qui sotto perché noi poi gli rispondiamo! Aspetta, aspetta! Aspetta un attimo! Tantacosa, ed è che stiamo chiedendo la puntata? Grazie a tutti.